Il MES esiste dal 2012, non è stato istituito ieri, non è stato approvato o attivato la scorsa notte. Come falsamente e irresponsabilmente è stato dichiarato, questa volta lo devo dire, devo fare nomi e cognomi da Matteo Salvini e Giorgia Meloni, lo stanno ripetendo dalla scorsa notte per tutte queste ore. Non è assolutamente così. Questo governo non lavora col favore delle tenebre, questo governo guarda in faccia gli italiani e parla con chiarezza.